E' arrivata una collega sarda da noi in ufficio, una biondina, una bella ragazza fra l'altro, simpatica, al che io disse, ma questa ragazza si chiama Emanuela Loi. Ancora le notizie erano così frammentarie, non si sapeva, dicevano sempre cose nuove. Dei cinque agenti uccisi insieme al giudice Corsellino in questa orrenda strage, uno di questi agenti era una donna. Nel giorno della strage che io sono andato lì, c'era la mano di Emanuela, ancora con l'arma in pugno. Io in quel momento ero tutta frastornata, io dicevo, ma dov'è mia sorella, dov'è mia sorella? Ma dov'è? Ma bene, io sono fatta bene. Il mio pensiero è quando lo dico, Paolo, perché per me è stato un secondo padre. Perché lui quando diceva, io devo continuare, continuo pure io. Il mio pensiero è molto tempoino a che adesso si non vuodere allora il proprio guerra, devo tagliare mia un'acropria. E chi mi ha una porta?